IESUS, 20 MAGGIO 2012 Mentre l'anno 2012 scorre lentamente e costantemente, molte cose si stanno verificando che faranno sì che il risultato previsto per l'umanità divina si attuì. Enormi quantità di energia divina sono state versate nei vostri cuori per prepararvi alle celebrazioni magnifiche, che il vostro risveglio avvierà. Avete aspirato a questo punto per eoni, eppure la vostra esperienza vi è in gran parte portato a credere che l'umanità nel suo insieme abbia fatto un piccolo progresso spirituale. Tuttavia, questo non è il caso. Ciò con cui vi è sembrato essere in lotta costante con davvero molto poco da imparare dalla sofferenza, che ha causato è stato davvero un enorme successo di istruzione spirituale per tutti voi. Se vi concentraste sui progressi compiuti negli ultimi decenni, in cui un numero crescente di voi è diventato intensamente consapevole della necessità di cambiamenti nel modo di trattare e reagire l'uno con l'altro, potete vedere che, improvvisamente, la cura e la considerazione per l'altro sono diventati i problemi, che state ora affrontando con entusiasmo. I cambiamenti, che si sono verificati in tutto il pianeta in un breve periodo di tempo, come conseguenza di questo aumento di consapevolezza, sono davvero fenomenali. Tendete a concentrarvi sulle cattive notizie, che i media richiamano costantemente alla vostra attenzione, e, naturalmente, essendo consapevoli di questo non vi ricordiamo che molti sono ancora in fase di sofferenza in tutto il mondo, e che ci sono molti problemi principali, che devono essere risolti. Ma il punto è che solo cento anni fa la maggior parte di voi avrebbe dato per scontato, dopo eoni di esperienza di conflitto e tradimento quasi costante, che era come funzionava il mondo, mentre ora c'è un intento d'amore molto forte con cui trattare questi problemi e portare la sofferenza di tutto il mondo alla sua conclusione. Questo è davvero un enorme e significativo cambiamento di atteggiamento, un'apertura dei cuori con amore e compassione, e un intenso desiderio di portare ad un finale, apparentemente senza fine e del tutto inutile, la sofferenza dell'umanità. È questa apertura dei vostri cuori, che ha permesso alle energie divine, che sono sempre state a vostra disposizione, di fluire attraverso di voi, con intensità crescente e di mettervi avanti verso questo punto. Il punto di svolta quando la luce finalmente e definitivamente scarcerà l'oscurità, e quando lo farà sarà come se non fosse mai esistita, che naturalmente non è così. Mentre c'è ancora molto da fare prima del grande risveglio e tutto sarà completato rapidamente e facilmente, perché ricevete e accettate enormi quantità di aiuto e guida dai regni spirituali dovete fare a voi stessi alcuni complimenti e congratulazioni per quello che avete già raggiunto. L'intensità della vostra volontà di risvegliarvi è abbastanza sorprendente, e non sarà ostacolata. Continuate con le vostre preghiere, le vostre meditazioni, le vostre intenzioni positive per liberare tutti le attitudini non amorevoli, e permettete, alle cose, che nascono dentro di voi come conseguenza, solo di fluire attraverso di voi senza impegnarvi con loro o tentare di analizzarle e capire la loro ragione d'essere. La vostra intenzione di rilasciarle è tutto ciò che è necessario, concentrandovi su questo, chiedendo a questo, e cercando di spiegare a voi da dove viene tutto la vostra educazione, i vostri genitori, vite passate, ecc. è un po' come aprire un sacchetto della spazzatura di rifiuti alimentari in putrefazione inutile, e davvero sgradevole. Così resistete alla tentazione di indagare, è inutile e mette solo freni ai vostri progressi. Ricordate, siete sulla strada del vostro risveglio, non ci sono deviazioni o altre strade per distrarvi o rallentarvi, e notate che potete effettivamente ottenere un senso preciso che tutto sia giunto a buon fine come divinamente promesso. Rilassatevi in quel senso di attesa, ancora una volta congratulatevi con voi stessi, e sappiate che grazie a tutti i vostri sforzi notevoli, avete allineato la vostra volontà con quella di Dio. Il vostro amorevole fratello, Gesù. Canalizzato attraverso John Smallman. Traduzione raggio di luce verde. Linguaggio celeste.